La battuta di Bicicchia, la palla dentro, la palla dentro, la palla dentro, ha svegliato l'aglio a destra, si ci riesce, e ancora Mobilio campo aperto, Mobilio, Mobilio fino in fondo, Mobilio la rimette, Mobilio, e la palla a note, se ne ancora c'è, se ne ancora c'è. La battuta di Bicchia, la palla dentro, 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 la palla Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.